Alta Villa, Lola sparisce così, portata via da qualcuno che rompe i vetri dell'auto parcheggiata davanti alla pizzeria del centro commerciale, dove la cagnolina aspettava il padrone. I ladri hanno portato via solo la maltese di un anno e mezzo, lasciando nei sedili materiale nuovo appena acquistato per la montagna. Ora i padroni sono pronti a pagare una cospicua ricompensa pur di riabbracciare Lola, che da una settimana è in mano ai malviventi che l'hanno rapita. Grazie.